Siamo con Pepino Ciresa che otto anni orsono è stato praticamente l'ideatore, il fondatore di questa importante iniziativa culturale libraria leggermente che ha appena concluso l'edizione della primavera 2017. Come è andata? Direi che è andata benissimo, tutti gli anni vediamo proprio una maggiore attenzione da parte della città e di tutto il territorio e una maggior partecipazione. Quest'anno siamo arrivati a dei numeri record, anche quest'anno, un'altra volta, quindi più di 16.000 giovani delle scuole, ragazzi iscritti e in più tutta la cittadinanza che ha partecipato ai vari momenti culturali. Quest'anno ci sono stati anche dei momenti estremamente qualificanti, è tornato per esempio lo scrittore Corona. Sì, Mauro Corona, lui riesce sempre a riempire i teatri e anche quest'anno è stato molto bello, ha illustrato un po' di… ma lui è così, parla sempre un po' di tutto e meno del libro che presenta, però è sempre molto piacevole ascoltarlo perché col suo modo di fare e la sua, tra virgolette, saggezza perché dice le cose molto chiare e quindi la gente lo segue, ecco, è stato proprio un po' il clou anche di quest'anno, Mauro Corona e intendiamo invitarlo anche all'edizione, al momento estivo che faremo i Resinelli come gli altri anni, ormai è diventata una tradizione anche quella, il mese di giugno faremo un sabato e una domenica ai Piani Resinelli dove ci saranno anche lì diversi autori che presenteranno libri, si parlerà del più del meno, tanto della natura, sempre seguendo la linea del confine, il tema che ci siamo dati quest'anno che era il confine. Quindi ci sarà un leggermente che va anche in montagna ai Piani Resinelli a giugno? Quando esattamente a giugno? Deve essere a metà giugno, adesso non abbiamo ancora deciso se la seconda o la terza domenica di giugno, comunque sarà sicuramente a giugno. Cambiamo argomento, parliamo di Pepino Ciresa, uomo di montagna, esperto alpinista, già presidente del CAI, adesso addirittura è tra i volontari che stanno recuperando i sentieri dei pizzetti del Monte San Martino. Sì, questo sentiero l'abbiamo riscoperto e rivalutato ormai una quarantina d'anni fa e è molto frequentato, ma tanto anche da stranieri, infatti si trovano spesso giovani tedeschi, giovani, ma adesso poi col Politecnico ci sono tanti ragazzi che lo frequentano e abbiamo dovuto quest'anno intervenire per rimettere un po' in sicurezza il tutto, in questi giorni stiamo lavorando proprio sulla cima del pizzetto dove stiamo proprio cambiando totalmente tutta la recinzione perché la cima del pizzetto è abbastanza ripida e quindi bisogna assolutamente tenerla in sicurezza perché va su tanta gente, va su anche le persone meno preparate e stiamo facendo questo lavoro proprio di risistemazione, di rimessa in sicurezza di tutto il sentiero ma soprattutto in questo momento dalla cima del pizzetto. I volontari sono tutti pensionati? Sì, siamo tutti pensionati purtroppo, i giovani su queste cose sono un po' carenti, anche se devo dire che l'Aurora ha alcuni giovani che danno una mano comunque la domenica perché loro in settimana lavorano a portare su i pesi e questo è già più che sufficiente perché noi con la nostra età portare su i pesi in quel posto non è che sia tanto facile però ecco c'è, a noi fa molto piacere perché c'è questa partecipazione della gente che apprezza, mentre lavoravamo anche ieri è passata della gente che ti ringrazia perché vede che sei lì a tenere il sentiero in ordine per tutti poi ed è molto frequentato noi abbiamo posizionato all'inizio del sentiero in una casella i Depliant in tre lingue, italiano, tedesco e inglese e dobbiamo continuare a portarne su perché proprio lì vengono usati, vengono presi da chi... si vede che passa tanta gente insomma. ecco, diciamo per coloro che non conoscono questo sentiero che è estremamente panoramico perché spaccia sul tratto terminale dell'Ario e sulla città di Lecco in particolare sul quartiere di Santo Stefano, Viale Turati e se la memoria non mi tradisce una volta, una volta, una volta all'anno c'era una festa dei pizzetti organizzata dall'Aurora San Francesco c'era anche una messa su un altare da campo, è una tradizione di smessa? no, 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 assolutamente, da qualche anno la messa non la facciamo più l'altare è un altare veramente fatto bene, in cemento c'è una bella statuetta della Madonna che viene dalla Val Gardena e quest'anno però quando finiremo i lavori abbiamo già deciso che faremo, che cercheremo di ripristinare questa festa faremo quindi una messa aperta a tutti e una salita in comitiva una salita in comitiva al pizzetto, sì quindi assolutamente, assolutamente sì insomma